Adesso sta girando la notizia di Facebook che vuole metterlo a pagamento Ciao Alessio Ciao anche a te Allora si ho letto Secondo me c'è un po' di confusione Bisogna capire se sia una fake news oppure no Oggi Instagram ti fa pagare per mettere la spunta blu Mi sembra 16 dollari al mese Che già quello per me è una cosa assurda Che io debba pagare ma va bene E se dovessero mettere poi a pagamento semplicemente il fatto di avere un account Su Facebook o Instagram Penso che sia il suicidio di Facebook Perché tutti poi passeranno a TikTok oppure nasceranno altre piattaforme gratuite No? E non capisco nemmeno il motivo perché fanno talmente tanti soldi con le pubblicità Che non capisco perché debbano Allora infatti io sono un po' combattuto Non so se questa cosa Per due motivi sono combattuto Il primo non riesco a capire se è un qualcosa di opzionale Nel senso come fa YouTube 10 euro Paghi 10 euro al mese Attivi YouTube Premium Sembra che si chiami E escludi le pubblicità Oppure che sia un qualcosa di obbligatorio O ancora terza ipotese che sia proprio completamente una fake news Ma penso sia una fake news Tu immagina un ragazzino di 16 anni che chiede alla madre 10 euro al mese per pagare Instagram Ma stiamo scherzando Ma a prescindere dal ragazzino di 10 anni Secondo me i social Di 16 anni scusami Sì ma uguale Perché tanto anche 8 anni ce l'hanno ormai I social per come li intendiamo noi Sono sempre più strumento di marketing Quindi automaticamente Sì ma perché è uno strumento di marketing? Perché ci sono persone all'interno Ma il social si autoalimenta Esatto Se io che è un utente normale Non voglio stare su Instagram o Facebook Perché devo pagare Ah io è un imprenditore che devo targetizzare quella persona Perché ci devo stare? E infatti questa cosa potrebbe essere una zappa sui piedi In ambedue le situazioni Perché se io utente pago 10 euro Perché dovrei stare all'interno di una piattaforma a 10 euro Anche se pure questo apre un altro paradosso Non è che per forza perché è gratuito Dovresti stare all'interno della piattaforma Perché lei ha letto tutti i commenti Ah addio Potresti dire addio anche prima Sì vabbè questo è un altro paradosso Quindi per l'utente i 10 euro al mese Dico perché dovrei pagarli Se li pago L'imprenditore Perché dovrei fare pubblicità? Perché mi vado a diminuire le possibilità Di raggiungere il mio pubblico in target E l'imprenditore a sua volta Altro punto di vista Può dire O libro professionista Che che sia Perché dovrei darti altri 10 euro in più Quando magari sto pagando 16 euro Già per la spunta blu Che poi In un articolo Ho letto che Sono 10 euro Se hai solo un dispositivo 16 Se magari stai con lo smartphone Cioè Non lo so Non lo so Non lo so Vivremo Vivendo Lo scopriremo solo vivendo Però Ma per me Non spero di no Perché se no Zuckerberg è chiuso Secondo me Cioè Non si è chiuso Poi c'è ora altre mille cose Infatti è un parolone Però Si dedicherà solo al jiu jitsu Non lo so Però Io non Cioè se fossi Ripeto Un ragazzo di 20 anni Che sta su instagram Solo per Fare foto Vedere foto Fare amicizie Quello che vuoi Quindi usa un social Come social Io non ci starei Mi metterei subito Su tiktok E addio agli altri Ritornando al discorso Di Zuckerberg Hai visto Che hanno fatto E' uscita Quell'intervista Che hanno voluto fare Nel metaverso Si hanno fatto Una cosa molto molto bella Ma in realtà Zuckerberg Era andato da giro Dicendo che L'avrebbero fatto A breve Per te hanno fatto Una cosa molto bella Non è che è bella È la tecnologia Che sta avanzando Cioè tu domani Invece di fare le call Su zoom Whereby O quello che vuoi Lo farai con l'ologramma Un po' tipo Star Wars Ok Molto bella A livello tecnologico Ti riprende tutte Le espressioni facciali Eccetera eccetera Ma Perché Cioè Perché Purtroppo Cioè Non c'è un motivo Però si farà E calcola che si pensa Che vivremo Cioè Si arriverà a un futuro Dove noi non ci sposteremo Dal semi interrato Dalla cantina Dalla camera da letto E interagirai Con le persone Lavorerai Tutto a livello virtuale Però tu in realtà Non ti muoverai Cioè Chi poi dice Poi il nostro corpo Si evolverà In un certo modo Quindi magari Saremo più intelligenti Ma il corpo No no ma Guarda io sono Un fautore Il metaverso Sono un sostenitore Mi piace come idea Si utilizza In una certa maniera Ne abbiamo già parlato In altri podcast Non vorrei Che questo concetto Venisse troppo Esasperato Però Ma purtroppo Penso che sia Cioè io faccio La La call Sul metaverso Quando Avrei altre 1500 Soluzioni Per poterle fare Al tempo stesso Prestazionali Cioè Nel senso Potrei prendere La macchinetta Fotografica E farla Tranquillamente In alta risoluzione Non lo so L'esasperazione Di ogni cosa Mi fa un po' paura Allora È un ragionamento Normale Prima di un qualsiasi Cambiamento Il cambiamento Spaventa Oppure uno Magari è avverso A cambiare Però in realtà È come si starà Ma Come si Sai Se vuoi polvendo La tecnologia Sarà sempre più Arriveremo a un punto Dove noi saremo Collegati con l'intelligenza Artificiale Con un chip Quello è poco massicuro Quindi perché non L'ologramma Ma a me non spaventa Scusa se Intervengo Ma a me non spaventa Il fatto Del metaverso Di dove stiamo andando Perché Ti ho premesso Che Io sono un sostenitore Perché può aiutarti Ti ripeto Ho semplicemente Paura che Tutto questo Venga esasperato E Ma io sono sicuro Che succederà E questa cosa Questa cosa Mi rende Un po' Infelice Infelice Nel senso Dubbioso Ecco Più che infelice Ma sono d'accordo Sono sicuro Che succederà E purtroppo Se vuoi ti faccio Un altro esempio In relazione A questo argomento Intelligenza artificiale Chat GPT Ti fai tutto Attraverso L'intelligenza artificiale Secondo me È vero Che ognuno Se lo personalizza Come meglio Crede L'input Eccetera Di esistere Sì Ma passeremo Secondo me Un periodo Dove tutti Si butteranno Su queste cose Poi ci sarà Un risveglio Della coscienza Delle persone Magari torneranno Un pochino indietro Anche secondo me E secondo me Come Tu mi insegni Come La coscienza Dei persone Porterà Magari a fare Un passo indietro Anche nel marketing Secondo me Si rifarà Un passo indietro Cioè si ridarà Molta più importanza Al brand Piuttosto che Al contenuto Già sta succedendo adesso Cioè mentre prima Questo lo ripetiamo Continuamente Mentre prima Basta fare due sponsorizzate Oggi le persone Non comprano Immediatamente Se fai solo Le sponsorizzate Ma hanno bisogno Di vedere contenuti Quindi devi lavorare Per forza sul brand E su riuscire Ad ottenere la fiducia Dei tuoi clienti Perché le persone Non si fidano più Visto che ormai Tutti sono online Anche persone che Promettono Ma poi non mantengono Quindi prima di riuscire Cioè di darti i soldi a te Vogliono vedere chi sei Cosa fai E che risultati Gira che ti rivolta Alla fine La base è sempre quella Posizionare Ma in qualsiasi cosa Nello sport Quello che vuoi Si ritorna sempre Ai fondamentali C'è poco da fare Proposito del sport Dimmi Ma sbaglio T'ho visto su Sky Ormai sono una persona Ormai sei troppo elevato Sì Ho aiutato una mia cliente Per un servizio di Sky Serviva Modello Mi sembra assurdo Dire modello Modello sportivo Sì Cioè qualcuno Su cui poter applicare Quello che fa lei Che è la termopigmentazione Quindi Diciamo mi ha aiutato A coprire una piccola cicatrice Che avevo qua Su Sullo stomaco È stata una bella esperienza Che cosa? Il tutto Bella esperienza È un lavoro È un'esperienza Quindi come fai di bella esperienza Cioè non lo so Questo perché? Perché ho preannunciato questo Non per farti pubblicità E dire Cicciccicc Cetera eccetera Ma per l'importanza Delle PR Come il posizionamento Cominci a essere Cioè secondo me È un po' il percorso Dell'imprenditore Cioè Quando inizi Le PR Sono troppo costose Per E te le fai da te E te le fai te Esatto Poi piano piano Devi avere altri Che parlano di te Sono le 24 ore La Repubblica Quello che vuoi In modo che Non solo ti costruisci La tua torrevolezza Con i tuoi lead I tuoi clienti I tuoi fan Ma sono altri Che ti aiutano A Da crescere La tua torrevolezza E quindi è un po' Il percorso Il processo Di qualsiasi azienda Che poi Ha cominciato ad avere Un certo tipo di Io lo dico sempre In consulenza Posizionamento Poi parli con i tuoi clienti Poi fai in modo Che i clienti Non sa che significa Cosa significa Il posizionamento Capito Sì Io spero sempre Però Di interfacciarmi Con persone Che comunque Curiosando Vanno No Perché quello è il nostro mestiere Sappiamo noi Cosa significa Loro non lo sanno Ed è giusto Che sia così Se altrimenti Non ci pagherebbero Allora Semplifichiamo Il discorso Del posizionamento Dico sempre Inizia a creare I contenuti Si fedele a un messaggio Amplificalo al massimo Raggiungi i clienti Step successivo Fai in modo Che i clienti Parlino di te Step successivo Fai in modo Che i media Parlino di te E quindi Sono queste Secondo me Le tre basi Dei PR Che ti permettono Poi Di creare Aziende Milionarie Vero Vero Hai ragione Alcuno l'ha detto Fino a mo Senti Sei un po' stile Oggi Ma perché Tu mi fai le domande Io rispondo Eh però Scusa Io non faccio Ma hai fatto una domanda Ti ha risposto Senti Te vedo nervoso però Te devi calmare Io nervoso Sì Te devi calmare Allora Poi riguardati Questo podcast E mi darò ragione No Non ti darai ragione Senti Come stanno andando Le cose Con Hai Percepito Dei cambiamenti A livello Come Come Immensilmente Poi succede A livello Di marketing Con i tuoi clienti Con le situazioni Senza andare Troppo nel dettaglio Allora Come ti dicevo Si torna sempre Al discorso Branding E quindi Costruire la fiducia Con i tuoi potenziali clienti Quindi Non bisogna spendere solo Sulle sponsorizzate Ma anche sui contenuti Cioè Fare Creare contenuti E sponsorizzare Quei contenuti Secondo Facebook Sta migliorando Il lato Sponsorizzate Quindi Ci saranno Delle novità No no Te lo dico subito Che secondo me Ma voglio spiattellare Vai Sì Secondo me Chi oggi Vende corsi Di media buying Deve cambiare mestiere Perché Facebook Comincia Ad essere Più semplici Da utilizzare Quindi I media buyer Servono Sì Ma Hanno una vita Molto più semplice Quindi non devono più investire In corsi di media buying Media buyer Per chi non lo dovesse sapere Sono tutte quelle persone Che si occupano Solamente Di Facebook ads O Google ads YouTube ads Di creare campagne Esatto Infatti Questa cosa Delle campagne Volevo farla In un podcast A sé Perché Secondo me È importante Dedicargli La giusta attenzione Magari La accenniamo In questo Cioè Quanti Formatori Fanno capire Che sono così Difficili Perché devono vendere Il corso Sulle ads Ma già Alex Ormozzi Ha dato dei corsi Gratuiti Dove ti insegna A fare delle ads Sì 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 Già Ha smontato Questa cosa Io mi ricordo All'epoca Feci un corso Non dico il nome Della formatrice E già ho detto Molto dicendo Formatrice Cioè Ho comprato Questo corso Questo video corso Ma ti dico Un macello Infinito Perché Ti diceva Ti dice quello Che ti dice Il consulente Facebook Fondamentalmente Che di solito Non capisco niente Che ti dice No Devi far partire La campagna Interazione Raggiungi le persone Poi prendi Fai la campagna E conversione Conversione Intesa Con Prendi tutti quelli Che hanno visto Il video Di 90 secondi Oggi Non serve più Poi Fai I vari Step Sì Sì Si faceva così Oggi Non serve più Un macello Infinito È normale Che poi L'imprenditore Dice Fermate Prima era così Poi prima Devi creare Una campagna 4-5 Gruppi di inserzioni Ogni gruppo Di inserzioni 4-5 Inserzioni Con 4-5 Foto diverse Con Copi diversi Oggi Fa tutto Facebook Con le Gradività Dinamiche Quindi Sì Assolutamente Si è semplificato A favore Dell'imprenditore A favore Del professionista Che però Deve sapere Dove mettere Le mani Assolutamente Nel senso Anch'io Anche tu Sulla nostra pelle Fondamentalmente Facciamo Dei tentativi E facciamo Degli errori Per rendere Sempre più Performanti Le campagne Pubblicitarie E basta Un minima Cosa Una minima Taratura Un minimo Settaggio Fatto diverso Per attrarre Persone Non in target Rispetto a Persone in target Ed è questo Anche che Secondo me Nel prossimo podcast È interessante Analizzare L'importanza Di Non far vedere Perché dovremmo Metterci davanti Al computer E mostrare Non che abbiamo Niente da nascondere Però è qualcosa Di molto più complesso Però Porre l'attenzione Su quanto sia Importante Formarsi O quantomeno Affidarsi A qualcuno Che sappia Come tarare Oppure settare Le sponsorizzate Per quanto semplici In una maniera Specifica Per il settore Nel quale Si vuole Convertire Utenti In clienti Per me Questa cosa È fondamentale Ho fatto Delle sessioni Di consulenza Graduita Con delle persone Che Per me È una follia Spendere 200 euro Per lead 50 euro Per lead E poi Quando magari Gli dai una soluzione Dicono Eh però Sai Aspetta Però magari Chi ci sta guardando Non sa quali sono I parametri normali Calcola che Normalmente Un lead Va dai 20 centesimi A massimo 5 euro Quello che devi Cioè se sei in quel range Sei bravo Fuori da quel range Dipende sempre Dalla nicchia Dalla concorrenza Da mille cose Però Diciamo Sopra i 10 euro Stai facendo qualcosa Di assolutamente sbagliato Assolutamente Per lead Per lead Non per cliente Per cliente Cioè Io posso anche avere Un servizio Che costa 3000 euro 2500 2000 Pagare Un cliente 100 euro Ci metto la firma Oggi 150 euro Ci metto la firma Oggi Però per lead Cioè per persona Che vuole parlare Con te O vuole capire Di cosa ti occupi Mi sembra No mi sembra È elevato Senza stare A fare tanto I perbenisti Eppure esistono Queste realtà Perché Perché magari Non dico che sono Impreparate Però No Stanno cavalcando Un'onda Che sta Per finire Nel senso Tanti imprenditori Se vogliono mettere Su facebook O instagram Non sanno fare Le sponsorizzate Prendono L'agenzia Che fa Le sponsorizzate Che magari Danno Due lire Perché è meglio Pagare di meno Secondo loro Invece che di più Loro fanno Le sponsorizzate Normali Poi Ci sarà qualcuno Che avrà Dei risultati E qualcuno Però questo gioco Sta per finire Cioè io vedo Ancora profili Che non hanno Un business manager Cioè fanno Le sponsorizzate Attraverso L'account Che ti genera Facebook Nel momento In cui fai L'iscrizione Dove tu Aggiungi Ovviamente I dati Per i pagamenti Vedo anche Professionisti Che fanno Partire Le sponsorizzate Dal cellulare Invece di usare Business manager Dal computer Vabbè Tu vuoi farle Partire Puoi farle Anche partire Dal cellulare Se devi Mettere Tutti i parametri Giusti Devi sempre Farle partire Dal computer Business manager Sul computer Io posso Anche attivare E disattivare Al telefono Certo Sì sì Scusa Secondo me Un professionista Le fa partire Dal cellulare No 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 Non si può sentire Faccio sempre Avvocato il diavolo Perché mi piace Che io gli mando Gli screen Da telefono Con i risultati E lui si incazza Che io faccio Manfred Guarda questa È la situazione Che ne pensi Non ti rispondo più Se mi mandi Screen da telefono Quindi Mi piace Stuzzicarti Per il discorso Del telefono Però sì È vero Nel senso che Ma più che altro Perché hai più parametri Da visionare Esatto Non puoi Basarti Che poi Chi vuole fare Prove Tentativi Dici Vediamo se questo prodotto Può andare Metti in sponsorizzata Un posto È un tentativo Ma quello è un altro discorso Ma fare una campagna Una campagna È un'altra cosa Ma anche analizzare Una campagna Solo dal computer Aspetta che è entrato Screensaver Ok Senti 20 minuti pari pari Io penso che Vorrei tenere Questo argomento Vorrei fare proprio Un podcast Su Su meta Perché non sono più Solo le ads Di facebook È diventato meta Tra l'altro Meta business suite È una cosa Che si apre A tutti gli imprenditori A tutte le persone Quando gli chiedi Mi apri Il business manager Sì Non è questo Il business manager È il meta business suite Perché Ha introdotto Ovviamente Essendo diventato Meta Facebook Da un bel po' Meta business suite Ed è quello Poi Che ti fa capire Se hai Un business manager O meno Cioè Se arrivi proprio lì Vuol dire Che magari Stai utilizzando Un account Che hai generato Direttamente Tramite facebook E non tramite Business manager Finito questo monologo Ho finito Anche da saliva C'è l'acqua All'esempio Adesso Dopo la bevo No Quella è per la macchina Quella Quella è per i fiori No no Quella per il gatto No Non ho un gatto Quella per il cane Il cane non c'è oggi Mi offre l'acqua del cane A me Ma non di queste cose Perché poi Sembra che è vero Ma che stai a dire No adesso Perché non c'è là Cioè Ti sembra Non voglio No Ti sembra l'acqua del cane Questa Chissà che c'è In questo In questo recipiente Non voglio sapere Va bene La prossima volta Vi faccio assaggiare L'acqua L'acqua grillata No no Ti ringrazio Un bel frullatore Di grilli Buono Nutrienti Se adesso le vogliono vendere La farina dei grilli Anzi la vendono Quindi mangia Sei allergico Al grillo Non l'ho mai provato Se sei allergico Al grillo Ma non ci tengo a segnare Va bene Niente Hai dovuto rovinare Un podcast Intelligentissimo Interessantissimo Con le tue supposizioni Dell'acqua Del cane Del gatto Del sorcio Noi ci vediamo Al prossimo podcast Ciao Iscriviti al canale Per rimanere aggiornato Sull'uscita Del prossimo podcast Se invece hai bisogno Di entrare direttamente In contatto con me O comunque vuoi capire Come anche tu Puoi aumentare Le tue vendite Grazie all'online Clicca sul link Che trovi in descrizione Che trovi in descrizione